Era come un presepe, sento un po' il presepe, il presepe è bello, tranquillo, paesino piccolino, ci conosciamo tutti quanti, c'è l'essenza che era proprio una famiglia. Questa è Conza della Campania, il vecchio paese, questo paese viene completamente distrutto dal terremoto dell'Ottanta e tutto è rimasto quasi come allora. Queste sono case abbandonate dopo il terremoto. Grazie